Si parla di bilancio e del ruolo di ARPAT, l'Agenzia regionale di protezione ambientale nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale. L'Aula approva maggioranza, 21 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti, il bilancio di esercizio 2020. Ad illustrare le novità e gli investimenti in tema di personale la Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio, Lucia De Robertis. Il bilancio di ARPAT che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale è stata l'occasione per parlare ancora di questo importante ente strumentale della regione, un ente che nel territorio fa della prevenzione, del controllo, del rispetto dell'ambiente, delle norme, il suo essere per noi un punto di riferimento. Abbiamo anche in Commissione ascoltato il Presidente e il Direttore Tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo ARPAT alla luce anche delle tante problematiche che in regione toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese, ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la regione Toscana sta affrontando questo nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci ha imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto soprattutto preventivamente, anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci fa, ci presenta il conto. In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo. L'ARPAT istituita nel 1995 è attiva dall'anno successivo. È stata riformata più volte e trasformata in un ente vigilato. È impegnata a far fronte non solo alle normali attività di monitoraggio ma a tutta una serie di attività specifiche legate ad esempio al cambiamento climatico e ai gas inquinanti, oltre al ruolo di strumento e di supporto alla magistratura inquirente. Da qui l'urgenza di investire in strumentazione e implementazione del personale, visto che l'agenzia non è riuscita a coprire il turnover e l'età media dei dipendenti è di 55 anni. L'Aula approva così la proposta di risoluzione in tema di personale presentata dal Movimento 5 Stelle. L'importanza di ARPAT all'interno del sistema regione toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente, dopo averlo più volte presentato, il nostro atto che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso sia stata approvata dalla maggioranza che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente, che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve, arriveranno molti fondi anche per il PNRR e per numerose opere e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT e la mancanza appunto di risorse che si avevano non le ha messe in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista, ad esempio per i controlli sull'amianto e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33% e quindi questo fa capire che l'investire in ARPAT è fondamentale e che la regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Respinto invece l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Il bilancio di ARPAT denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse, paradossale perché l'azienda ha chiuso un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla regione, in virtù della vittoria che l'agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista delle applicazioni dell'Imo. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'agenzia per svolgere a pieno il proprio compito perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del CHEU. Abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinate dalla presenza del CHEU e conseguenti bonifiche. Il PD ha ritenuto di non votarlo. È un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la regione sta attraversando, non solo per le vicende del CHEU e quindi ci aspettiamo che la regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. Per l'opposizione di centro-destra poi sorprende trovare nel bilancio un utile così elevato. ARPAT è un ente fondamentale per la Toscana perché deve effettuare i controlli e tutte le verifiche necessarie per la salute dei cittadini toscani. Oggi riscontriamo dal bilancio di ARPAT un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte, sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare. Non possiamo accettare che ARPAT e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Quindi abbiamo espresso un voto contrario anche perché ARPAT in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale che ARPAT purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi e rinnovarsi soprattutto con delle professionalità specifiche nel settore e in diversi settori come quello delle verifiche e dei controlli che vengono fatti in ambito marino costiero. Crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come ARPAT oggi abbia un utile di oltre 6 milioni e non vengano svolte le verifiche e i controlli. Che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo la Toscana dell'inchiesta CEU, non può permettersi. Sì, al bilancio di ARPAT arriva da Italia Viva. Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di ARPAT che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli, rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini, dalle istituzioni. Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani e questo è un bene che la regione toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Cerimonia di premiazione a Palazzo del Pegaso dei vincitori del concorso per videomaker Toscana in spot 2021, ritorno al futuro, indetto dal Corecom il Comitato regionale per le comunicazioni. A vincere il primo premio è stato Matteo Manganelli con il video intitolato Toscana 2050 nostro futuro. Secondo la giuria un lavoro che si è distinto per la semplicità e la schiettezza del messaggio, sviluppato secondo i pensieri dei giovani e giovanissimi attenti al fare più che al dire. Secondo classificato è stato Giovanni Polisano, autore del video Secondo te, al terzo posto Andrea Palumbo con aria. Una menzione speciale è andata poi a Guido Fontanella di 14 anni, autore dello spot La Toscana del futuro già nel presente. 17 i partecipanti all'edizione 2021 del concorso, selezionati da una giuria che vedeva tra i membri anche il giornalista Rai Alberto Severi. Il tema era insidioso, è sempre insidioso parlare di Toscana perché il già detto, il già visto è sempre in agguato. Quasi tutti i 17 partecipanti al concorso sono riusciti ad evitare questa insidia. L'hanno evitata sicuramente i tre che hanno vinto il primo, il secondo e il terzo premio. A tracciare il bilancio di questa edizione del premio il presidente del Corecom Enzo Broggi. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione. L'idea quest'anno era molto ambiziosa, vedere la Toscana nel 2050. Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti tutti assolutamente molto belli. Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole, altri hanno costruito dei veri e propri soggetti. Insomma, un prodotto molto bello. Lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del Corecom, che è etica fissi e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi. A loro, principalmente, ma anche ad altri tecnici della regione, hanno seguito i lavori giudicati e oggi, con grande soddisfazione, siamo a premiare con un importante e significativo premio di 10.000 euro per i tre classificati e, naturalmente, poi saranno disponibili e a disposizione di tutti. Presente alla consegna dei premi anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Spot in linea, dice, con l'idea che abbiamo di Toscana nel futuro. Ringrazio Corecom perché davvero è andato nella direzione che come Consiglio regionale volevamo. Quello di provare a iniziare a raccontare la Toscana del 2050. È il primo passo. Davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale. La Toscana del domani ha anche tante domande, come la domanda della bimba, che è l'attrice principale del video vincitore, che ci mette tante domande e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022, perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente, più aperta, una Toscana che guardi con speranza al futuro, alle nuove tecnologie e alla necessità di saper tenere insieme la nostra storia, i nostri diritti e la nostra identità con la capacità di anticipare il progresso. Quel genio del mio amico, il film che celebra la figura di Leonardo da Vinci, bloccato dalla pandemia, arriva adesso nelle sale a due anni dal 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo. Un film in costume, diretto da Alessandro Sarti e interpretato da Sergio Forconi, è stato presentato all'interno della sede del Consiglio regionale della Toscana. Un modo per fare un regalo alla nostra Toscana, far conoscere i luoghi più belli della nostra regione. Un grazie lo faccio direttamente a Sergio Forconi e a lui e a tutti gli attori, perché davvero nel racconto di Leonardo da Vinci ci sta il racconto della nostra Toscana, della nostra identità. Film girato in Toscana a partire ovviamente da Vinci, da quella che è considerata la casa natale di Leonardo, ma scene anche tra Firenze e la campagna toscana. Leonardo da Vinci in un'età, fra virgolette, adulta, mentre arriva dagli Sforza a Milano e succedono una serie di peripezie quando Lorenzo il Magnifico gli dice che deve andare a Milano a portare un omaggio allo Sforza e soprattutto raccontare una certa storia. Il cammino di questo viaggio è molto articolato, perché il cocchiere, fra virgolette, interpreta le mappe non precisamente bene. E' stata una grande emozione interpretare un personaggio come Leonardo da Vinci. Ma che si scherzava? A questo momento gli ha fatto la storia, quindi anche io, lì mi piccolo, ho fatto un po' di storia. Si diceva, ma che ti ha fatto? Ho fatto Leonardo da Vinci. E quindi una grande soddisfazione. Oltre a Forconi nel cast, attori come Atina Cenci, Katia Beni e Gianni Giannini. Il film, che avrà l'anteprima, mercoledì 15 a Firenze, sostiene anche la situazione benefica Cure to Children. Cancro e bambino sono due parole che non dovrebbero mai incontrarsi, ma purtroppo nella realtà, come sappiamo, anche i bambini si ammalano di cancro, anche i bambini purtroppo muoiono di cancro. Cure to Children nasce 14 anni fa da un motivato gruppo di genitori che purtroppo abbiamo vissuto la triste esperienza di vedere il nostro figlio ammalarsi di una di queste patologie e poi purtroppo soccombere. Insieme a questo motivato gruppo di genitori, io sono uno di questi, un gruppo di medici ha deciso di far nascere un progetto che usciva fuori dagli schemi. Cercare di curare un maggior numero di bambini in tutto il mondo, in realtà povene, in realtà emergenti, proprio perché in questo modo avremmo avuto i numeri per poter sì curare e salvare la vita a tanti bambini e potete immaginare questo aspetto quanto possa gratificare la componente umana della fondazione, ma allo stesso tempo la parte medica poteva in qualche maniera perfezionare ed affinare questi protocolli sempre più innovativi per la cura di questi bambini. Ad oggi sono oltre 11.000 i bambini assunti in carico dalla fondazione Cure to Children che hanno avuto una corretta diagnosi e hanno avuto una terapia adeguata. Sono quasi 1.000 i bambini che sono guariti addirittura con terapie di terzo livello, ossia il trapianto di midollo osseo, in realtà dove praticamente non veniva mai effettuato. Grazie a tutti i nostri spettatori